Sì, sì, fratelli Anastasi, qui con noi Valerio Vermiglio. Allora, sei felice di questo nuovo incarico? Sì, beh, sicuramente subentrare qualcuno che ha purtroppo raccolto un'esperienza non positiva non è mai bello, però è sicuramente un'opportunità per me che stuzzica e stimola parecchio. Quindi sì, sono decisamente molto contento. Cosa ti ha spinta ad accettare questo nuovo incarico? Sicuramente la passione che vedo e che conosco da Carmelo e Nellina che hanno cominciato questa traversata da tanto con i bimbi, con Sicily e con la scuola estiva. Pippo Anastasi perché ha creduto in questo, creando anche questa tipologia di squadra e tutti i ragazzi che da dentro si vedono ruggire perché hanno sicuramente tante skill, tante attitudini da poter mettere in campo. Quindi questo mi ha spinto a mettermi in discussione per dare il mio meglio, la mia esperienza e quello che è stato sempre il Valerio Vermiglio nel mondo della pallavolo come risultati, con il giusto atteggiamento per essere positivo. Conosceri già i ragazzi? Sì, con qualcuno di loro ho giocato, con qualcuno ho giocato contro. È solo bello ritrovarsi perché quando poi siete della stessa parte sono finite i motivi per cui litigare o cercare di creare il nervosismo in campo che a me piace tanto, comunque in cui ho giocato sempre. Quindi qualcuno lo conoscevo di più, qualcuno lo conosco adesso, ma mi sembrano ragazzi sicuramente predisposti. Che lo siano o no, i problemi sono loro. Io quello farò. Come lo vedi il livello della squadra? Lo vedo buono. Sicuramente i ragazzi ancora hanno tanti margini di miglioramento. La squadra degli acuti ha comunque delle doti che ancora sono poco rispetto a quello che possono dare. Quindi siccome c'è una situazione, un'atmosfera che può diventare magica facciamo in modo di creare il giusto elisir. Qual è l'obiettivo che ti sei prefissato per questa nuova esperienza? Dare il meglio di me stesso. Senza guardare a quello che viene fatto o che verrà fatto tra sei mesi, ma quello che giorno per giorno sono stato capace di fare per giocatore, di farlo mio perché c'è lo mio sangue, e di riportarlo nelle esperienze con i giovani sicuramente come tutti i giorni. E anche nelle esperienze con i meno giovani, un pochettino più grandi, sicuramente più giovani di me come questa squadra. Per cui dare un imprinting di Valerio Termiglio per quello che ognuno di loro servirà a prendere la loro bid.